ciao a tutti e tutte e bentornati sui lari fmas pronti per una nuova sfida d'ombrellone vi ricordo che ogni venerdì alle ore 13 uscirà per tutta l'estate un quesito matematico da risolvere se non avessi ancora fatto ti invito a iscriverti al canale per non perderti i prossimi cominciamo all'interno di un quadrato sono disposti un semicerchio e un quarto di cerchio come in figura e sono tangenti tra di loro il raggio del quarto di cerchio e il diametro del semicerchio sono pari a 12 trova l'area del quadrato prima di ascoltare la mia risoluzione ti invito a fermare il video e provare a risolvere il quesito come dico sempre ogni problema può essere risolto in molti modi ti invito quindi a commentare sotto il video nel caso in cui tu abbia risolto il problema diversamente da me per risolvere il quesito dobbiamo ricordare che se due circonferenze sono tangenti allora i loro centri e il punto di tangenza appartengono alla stessa retta questo perché entrambi i raggi devono essere perpendicolari alla tangente che passa ovviamente per questo punto di tangenza quindi per semplicità possiamo andare a tracciare la retta che contenga i centri sia del quarto di cerchio che della semicirconferenza e che passa quindi per il punto di tangenza osserviamo che così facendo abbiamo creato un triangolo rettangolo tutte le volte che vediamo un triangolo rettangolo può venirci in mente il teorema di pitagora che dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti ma come possiamo sfruttare in questo caso il teorema di pitagora intanto osserviamo che questo è un quadrato visto che è un quadrato e questo segmento vale 12 quest'altro segmento vale 12 questo segmento e questo segmento sono congruenti di conseguenza possiamo andarle a chiamare x osserviamo ora questo segmento in questo caso il diametro di questo semicirchio è 12 di conseguenza il raggio sarà di 6 poiché tutti i raggi sono congruenti se questo raggio è 6 allora anche questo raggio fino al punto di tangenza sarà 6 ora questo raggio è 12 di conseguenza anche quest'altro qui che è un altro raggio sarà 12 di conseguenza l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo sarà pari a 12 più 6 cioè 18 ora possiamo andare a sfruttare il teorema di pitagora quindi cateto 1 alla seconda più cateto 2 alla seconda è uguale all'ipotenusa alla seconda cateto 1 sarà questo quindi sarà pari a 12 più x elevato al quadrato più cateto 2 che sarà pari a 6 più x tutto elevato al quadrato uguale all'ipotenusa alla seconda cioè 18 al quadrato ora se ricordiamo i prodotti notevoli sappiamo che il quadrato di questo binomio è 144 più 24 x più x alla seconda il quadrato di questo binomio è 36 più 12 x più x alla seconda e il quadrato di 18 se lo andiamo a calcolare è pari a 324 facendo un po' di conti otteniamo 2 x alla seconda più 36 x meno 144 uguale a 0 possiamo dividere tutti i coefficienti per 2 ottenendo quindi x alla seconda più 18 x meno 72 uguale a 0 ora questa è un'equazione di secondo grado che possiamo tranquillamente risolverle con la formula risolutiva quindi calcolando il delta che è b alla seconda meno 4ac dove a è il coefficiente di x alla seconda b è il coefficiente di x e c è il termine noto il delta facendo i conti esce 612 troviamo x12 pari a meno b più o meno la radice di delta fratto 2a se andiamo a fare tutti i conti otteniamo meno 9 più 3 radice 17 e meno 9 meno 3 radice 17 osserviamo tuttavia che stiamo parlando in questo caso della misura di un segmento di conseguenza non può essere negativo quindi l'unica soluzione valida è proprio questa abbiamo trovato quindi che x è meno 9 più 3 radice di 17 di conseguenza ora siamo in grado di trovare il lato del quadrato attraverso cui troveremo l'area facendo lato alla seconda quindi per trovare il lato del quadrato faremo 12 più meno 9 più 3 radice di 17 ottenendo così 3 più 3 radice di 17 e quindi lato alla seconda che è pari alla nostra area dobbiamo fare 3 più 3 la radice di 17 tutto elevato al quadrato ora anche in questo caso dobbiamo risolvere il quadrato di binomio e il risultato finale sarà 162 più 18 radice di 17 lascio a te la dimostrazione di questo breve calcolo ti ringrazio per essere qui e soprattutto spero tanto che questo video ti sia piaciuto ti invito a mettere un like sotto il video a iscriverti al canale e soprattutto attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi video sia della serie di matematica da ombrellone ma anche tutti i prossimi video divulgativi e anche didattici intanto ti auguro buona settimana da Ilari FMAF ciao 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 ciao